Solo un pareggio per l'Unitas Isciacca, che non è andato oltre l'1-1 casalingo contro il Cus Palermo, formazione di bassa classifica, sulla carta ampiamente alla portata dei Saccensi. Al Gurrera, dinanzi una buona cornice di pubblico, si è vista una partita combattuta, che entrambe le squadre hanno provato a vincere. Pareggio giusto alla fine dei conti. I neroverdi, privi ancora di Allegro, Devoto e Salvucci, hanno giocato un buon incontro, ma evidentemente contro le squadre chiuse che lottano per salvarsi, hanno delle difficoltà ad andare a rete. Era già successo anche, per esempio, contro il Marsala e il Monreale. Il primo tempo si è chiuso senza reti, nonostante alcune occasioni favorevoli per i padroni di casa. Nella ripresa, invece, i gol. Ad andare in vantaggio per primi gli ospiti con Spataro. I Saccensi tardano a riorganizzarsi e rischiano addirittura di prendere la seconda rete. Nel momento più complicato arriva invece il pareggio, grazie ad un colpo di testa di Tugnolo su azione di calcio d'angolo al settantesimo minuto. Nel finale, i neroverdi si buttano in avanti alla ricerca del gol vittoria, ma senza riuscirci. I palermitani hanno saputo soffrire, difendendosi a volte con ordine e all'occorrenza con i denti. Per i Saccensi, comunque, si tratta del sesto risultato utile consecutivo, una bella striscia positiva. Il successo avrebbe permesso alla squadra del tecnico Geraldi di agganciare la zona playoff. I Saccensi restano invece a metà classifica, in posizione tranquilla, con sette lunghezze di vantaggio sulla zona pericolo. È chiaro che i tifosi speravano nel salto di qualità, che per un motivo o per un altro non è arrivato. Il tecnico Giuseppe Geraldi sembra aver trovato la quadra e la formazione titolare, sulla base di quanto oggi ha a disposizione. Si guarda con attenzione anche al prossimo mercato invernale, durante il quale tifosi e tecnico si augurano che la squadra, compatibilmente con le economie societarie, possa essere rafforzata ed allungata dal punto di vista numerico. Servirebbero almeno due o tre scelte in più. Il girone A di eccellenza si conferma molto equilibrato. Nissa, Akgas e Canicatì condividono la vetta della classifica, tutte con 23 punti. A completare la zona playoff, al momento, anche Mazzarese e Don Carlo Misilmeri. Dietro, Cus Palermo e Dolce Onorio Marsala restano le uniche due squadre del campionato a non avere ancora vinto una partita. Prossimo incontro per lo Sciacca in trasferta, a Misilmeri contro il Don Carlo.